L'esplorazione spaziale è come leggere un romanzo giallo avvincente. Il telescopio spaziale James Webb, spesso definito come il successore di Hubble, sta scrivendo alcuni dei capitoli più accattivanti di sempre. Immaginate un telescopio così potente da poter scrutare attraverso la polvere cosmica, rivelando le prime galassie dell'universo, assistendo alla nascita delle stelle e persino analizzando le atmosfere di pianeti lontani. Lanciato il giorno di Natale del 2021, il telescopio ha intrapreso un viaggio di un milione di miglia verso il suo punto di osservazione cosmico. A differenza di Hubble, che osserva principalmente la luce visibile, Webb è specializzato nella luce infrarossa. Questa capacità unica gli consente di vedere attraverso dense nubi di gas e polvere che oscurano la nostra visione nella luce visibile. Con Webb non stiamo più solo guardando l'universo. Stiamo scrutando nel suo stesso cuore, assistendo a eventi che si sono svolti miliardi di anni fa. Queste osservazioni stanno fondamentalmente rimodellando la nostra comprensione del cosmo e il nostro posto al suo interno. Uno dei traguardi più straordinari raggiunti da Webb finora è stato catturare la debole luce delle prime stelle e galassie dell'universo. Immaginate l'universo come un vasto oceano in continua espansione. Hubble ci ha permesso di vedere le onde che si infrangono vicino alla riva, ma Webb ci permette di vedere le increspature dei primissimi sassolini gettati nell'oceano cosmico miliardi di anni fa. Queste prime galassie, formatesi solo poche centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang, sono più deboli e più piccole di qualsiasi altra cosa abbiamo mai visto. La loro luce è stata allungata dall'espansione dell'universo, passando dalle lunghezze d'onda visibili all'infrarosso, proprio le lunghezze d'onda che Webb è progettato per rilevare. Studiare queste prime galassie è come guardare indietro nel tempo, permettendoci di ricostruire come l'universo si è evoluto da una zuppa calda e densa di particelle alle complesse strutture di galassie che vediamo oggi. Allo stesso modo, queste prime galassie custodiscono indizi sui processi che hanno plasmato l'universo in cui viviamo, dalla formazione delle prime stelle all'assemblaggio di galassie come la nostra Via Lattea. Queste osservazioni ci stanno aiutando a comprendere l'evoluzione dell'universo. Webb non si limita a guardare indietro nel tempo. Si tratta anche di vedere oggetti familiari sotto una luce completamente nuova. Prendiamo ad esempio le galassie. La visione a infrarossi di Webb le sta rivelando con dettagli senza precedenti. Sta penetrando i veli di polvere che oscurano la nostra vista nella luce visibile, rivelando i vivaci vivai dove nascono le stelle, i buchi neri supermassicci in agguato nei loro centri e l'intricata danza di gas e polvere che ne plasma l'evoluzione. Queste osservazioni forniscono informazioni cruciali sui processi che guidano la formazione e l'evoluzione delle galassie. Webb ha osservato come le galassie interagiscono e si fondono, un processo essenziale per la loro crescita ed evoluzione. Queste collisioni cosmiche, un tempo nascoste alla nostra vista, vengono ora osservate con dettagli sorprendenti, consentendoci di capire come le galassie come la nostra Via Lattea si siano formate nel corso di miliardi di anni. È come mettere insieme un gigantesco puzzle con ogni nuova osservazione di Webb che fornisce un pezzo mancante. Le stelle, i mattoni delle galassie, nascono all'interno di enormi nubi di gas e polvere note come nebulose. Questi vivai stellari, spesso oscurati dalla stessa materia da cui si formano le stelle, sono obiettivi primari per lo sguardo a infrarossi di Webb. La visione a infrarossi di Webb ci consente di vedere oltre l'impalcatura, rivelando l'intricato processo di formazione stellare in azione. Webb può penetrare questi bozzoli polverosi assistendo alla nascita di stelle e sistemi planetari con dettagli senza precedenti. Queste osservazioni stanno rivoluzionando la nostra comprensione del processo di formazione stellare, fornendo informazioni cruciali sulle condizioni che danno origine alle stelle e sui fattori che ne influenzano l'evoluzione. Ad esempio, Webb ha osservato oggetti di gas fuoriuscire da protostelle. Giovani stelle ancora in fase di formazione. Questi getti svolgono un ruolo cruciale nel regolare la crescita della stella e nell'influenzare la formazione di pianeti attorno ad essa. Studiando questi getti in dettaglio, possiamo imparare di più sui processi che hanno plasmato il nostro sistema solare miliardi di anni fa. Gli esopianeti, pianeti in orbita attorno a stelle al di fuori del nostro sistema solare, sono un'altra area in cui Webb sta facendo scoperte rivoluzionarie. Dalla scoperta del primo esopianeta negli anni 90, ne sono stati identificati migliaia di altri. Ma studiarne le atmosfere è stata una sfida. Webb, tuttavia, è dotato di strumenti in grado di bloccare la luce della stella, consentendoci di studiare il debole bagliore dell'atmosfera dell'esopianeta. Analizzando la luce che attraversa l'atmosfera di un esopianeta, Webb può identificare gli elementi chimici e le molecole presenti, fornendo indizi sulla composizione, la temperatura e persino la potenziale abitabilità del pianeta. Ad esempio, Webb ha già effettuato osservazioni rivoluzionarie di WASP-96b, un gigantesco pianeta gassoso situato a circa 1120 anni luce dalla Terra. Analizzando la luce proveniente dall'atmosfera del pianeta, Webb ha rilevato la presenza di vapore acqueo, fornendo lo sguardo più dettagliato mai ottenuto sull'atmosfera di un pianeta al di fuori del nostro sistema solare. Queste osservazioni sono solo la punta dell'iceberg. Le capacità di Webb stanno aprendo nuove porte nello studio degli esopianeti. Tra le tante immagini straordinarie catturate dal telescopio spaziale James Webb, due si distinguono per la loro bellezza e il loro significato scientifico, le scogliere cosmiche e la galassia a ruota di carro. Immaginate un'imponente parete di nubi cosmiche, scolpita dall'intensa radiazione di stelle appena nate. Queste sono le scogliere cosmiche, una regione all'interno della nebulosa della Carena, situata a circa 7600 anni luce dalla Terra. L'immagine catturata da Webb rivela gli intricati dettagli di queste nubi, mostrando i processi di formazione stellare con dettagli senza precedenti. Poi c'è la galassia a ruota di carro, situata a circa 500 milioni di anni luce di distanza nella costellazione dello scultore. Questa galassia ha forma di anello, formatasi dalla collisione frontale tra due galassie, assomiglia a una ruota di carro con raggi che si irradiano da un anello centrale. La visione a infrarossi di Webb ci consente di vedere attraverso la polvere e il gas, rivelando la struttura della galassia e le regioni di formazione stellare al suo interno con straordinaria chiarezza. Queste immagini non sono solo visivamente straordinarie. Forniscono informazioni cruciali sui processi che modellano il nostro universo. La capacità del telescopio spaziale James Webb di vedere nella luce infrarossa è la chiave delle sue scoperte rivoluzionarie. La luce infrarossa, un tipo di radiazione elettromagnetica invisibile all'occhio umano, ci consente di vedere attraverso la polvere e il gas cosmici, rivelando oggetti e processi nascosti alla nostra vista nella luce visibile. Anche la luce infrarossa viene allungata man mano che l'universo si espande, il che significa che la luce proveniente dalle prime stelle e galassie viene spostata nella parte infrarossa dello spettro elettromagnetico. Questo rende Webb lo strumento perfetto per studiare l'universo primordiale, consentendoci di scrutare indietro nel tempo fino a un'epoca in cui si stavano formando le prime stelle e galassie. Nella luce visibile potresti vedere le luci della città, ma nell'infrarosso vedresti le firme di calore di edifici, automobili e persino persone. Allo stesso modo, l'astronomia a infrarossi ci consente di vedere oltre il visibile, rivelando l'universo nascosto in tutto il suo splendore. Le capacità a infrarossi di Webb stanno svelando i segreti dell'universo. Il telescopio spaziale James Webb è più di un semplice telescopio. È una testimonianza dell'ingegno umano e della nostra insaziabile sete di conoscenza. Le sue scoperte non si limitano a riscrivere i libri di testo. Stanno accendendo la nostra immaginazione e ispirando la prossima generazione di esploratori e sognatori. Con ogni nuova immagine e set di dati stiamo rimuovendo un altro strato della cipolla cosmica, rivelando l'universo in tutta la sua complessità e meraviglia. Ma la ricerca della comprensione cosmica non finisce con Webb. Le sue scoperte stanno sollevando nuove domande, spingendo i confini della nostra conoscenza e aprendo la strada a future missioni e telescopi. Il telescopio spaziale James Webb è in prima linea in questa esplorazione, guidandoci in un viaggio di scoperta che promette di cambiare per sempre la nostra comprensione del cosmo e il nostro posto al suo interno.